Questo mese è importante, il mese della prevenzione di un problema molto sentito soprattutto per quanto riguarda le donne, il tumore al seno. Infatti è il mese di ottobre, si chiama il mese della campagna nastro rosa che è il simbolo di questa campagna di prevenzione. Tutti gli anni, tutto il mese di ottobre viene dedicato a questo argomento in tutta Italia ma anche nel resto del mondo perché dappertutto purtroppo il tumore al seno colpisce. Noi come volontari della Delegazione Alta Valle Seriana della Lega per la Lotta ai Tumori quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa un po' insolita. Abbiamo illuminato la chiesetta della Santissima Trinità sul Colle Crosio con delle lampade rosa. Non so se nel frattempo qualcuno sarà riuscito a vederle a causa delle nebbie provocate dal cattivo tempo. Però speriamo che siccome è una cosa che dura tutto l'arco del mese prima o poi la nostra chiesetta rosa sia ben visibile nelle serate e nelle notti clusonesi. Come tutti gli altri anni poi abbiamo proposto una serie di visite gratuite senologiche e per chi volesse approfittare di questa opportunità deve telefonare alla sede della Lilt di Bergamo allo 035 24 21 17 dove verrà assegnato una data per un appuntamento. Ci vorrà un po' di pazienza perché è un centralino unico ed è spesso oberato di lavoro. Raccomando di non perdersi d'animo e ritentare se non si riesce ad avere subito la comunicazione. Comunque queste visite sono semplicemente un modo per invitare le donne a fare la prevenzione che poi possono fare benissimo per tutto il resto dell'anno approfittando delle nostre strutture sanitarie. La terza cosa invece che facciamo quest'anno è la nostra passeggiata in rosa. Per il terzo anno consecutivo ci troveremo nel centro storico di Clusone sabato 13 alle ore 16 e 12 anzi scusate alle ore 16 e indossando le magliette rosa con il simbolo della campagna faremo una passeggiata per il centro in modo da farci vedere, da diffondere il nostro messaggio e coinvolgere il maggior numero di donne possibile. Il giorno invece 20 di ottobre parteciperemo alla famosa stra-oratorio che si tiene tutti gli anni un percorso con partenza e ritorno poi sempre all'oratorio che tocca vari punti dell'altopiano e noi saremo presenti con un gazebo e con del materiale informativo alla tappa dei prati mini. Dobbiamo però rimarcare una cosa il tumore al seno è un problema che non possono sottovalutare nemmeno le ragazze giovani. No, esatto questa è veramente una, diciamo, una cattiva notizia perché il tumore sta colpendo molto anche le giovani cioè quella fascia di età che ancora non è compresa nello screening mammografico che va dai 49 anni ai 69 e diciamo che è stata scelta questa fascia di età ma non è assolutamente detto che le fasce di età precedenti o seguenti siano poi a riparo da questo tipo di tumore quindi anche le giovani possono fare delle visite senologiche se hanno qualche sospetto oppure sottoporsi all'ecografia che nelle giovani è più consigliata della mammografia e invece per le over 70 quelle che ormai sono uscite dallo screening la mammografia è sempre uno strumento molto valido da non dimenticare.